sto filmando un nido non farlo scappare cosa sta facendo l'acqua il cocalle no 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 si è un nido no 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 mi dice perché guarda nei cammini non mi dice come che lo stai appannati selezionante questa mascherina però qui ti ha visto la cosa cazzo guarda qua lo schermo guarda qua del mio schermo ah si non arrivo a capire se c'è erba polessa ah ecco adesso vedo meglio ma dopo vedremo dopo vedremo